ciao a tutti questa qui è la mia cagnolina cuba di cinque anni è molto brava e molto giocherellona e molto divertente ci troviamo molto bene con la linea dog power abbiamo scelto questi crocantini perché soffre spesso di otite e dermatite e quindi abbiamo provato a cambiare ci siamo trovati appunto molto bene le spedizioni sono sempre veloci e tutto è molto facile anche ordinare dal sito e cuba li adora vero cuba fai seduta bene bravissima ok dai la zampa dai la zampa bravissima ecco qua la papa per cuba buon appetito buonissimi questi croccantini della linea derma di dog power saluta ciao ciao a tutti